Faccio il pastore da circa 10 anni Sia mio padre, mio nonno, mio bisnonno, diciamo, si occupavano di pastorizia La mia è una storia di ritorno perché avevo iniziato una vita completamente diversa Finché non ho deciso veramente di lasciare gli studi e di dedicarmi a tempo pieno e come scelta di vita alla gestione dell'azienda di famiglia e a tutto quello che comporta Il lavoro del pastore forse è uno dei mestieri più antichi del mondo quindi c'è tutto un aspetto tradizionale e non c'è da inventarsi niente Però sicuramente nel momento in cui ho deciso di farlo attivamente l'ho reinterpretato Ho rivoluzionato un po' anche i processi di lavorazione nel caseificio, le stagionature Abbiamo reintrodotto in azienda una pecora autoctona che era stata selezionata proprio in questi territori e era ormai arrivata a rischio di estinzione, che è la pecora sopravvissana Abbiamo potuto ricominciare, diciamo, la lavorazione delle linee locali Erano diventate quasi un rifiuto, uno scarto e nessuno le voleva più andavano a finire tutte nell'industria e non avevano più un'identità propria Facciamo tutta una gamma di pecorini e trasformiamo il latte, non pastorizzandolo, al latte crudo Cerchiamo di stagionare i formaggi grazie all'aria, all'ambiente, all'ossigenazione che c'è in questo posto in maniera più naturale possibile E questa scelta è stata dettata dal fatto di voler dare al nostro pecorino una identicità e l'unicità che merita Piuttosto che aumentare i volumi e crescere abbiamo deciso di diminuire il numero degli animali e la quantità di prodotti, di formaggi trasformati in azienda perché questo ci ha permesso di stare più su un'economia circolare seguire meglio tutti i processi e aumentare la qualità dei prodotti Ejurt è arrivato a Macereto subito dopo il terremoto La casa era danneggiata, era inagibile, quindi avevo bisogno di una struttura che mi permettesse di rimanere vicino agli animali e qua sul territorio, in azienda presente è diventata un avamposto, è diventata il simbolo di resilienza, di voler rimanere, di rinascita e di attaccamento dopo il terremoto Tra vent'anni probabilmente mi vedo sempre qua Ho un sacco di progetti in mente, di novità da apportare, miglioria da fare e spero per come mi li sogno